Nell'ambito della formazione professionale con la Regione Marche noi abbiamo realizzato questi percorsi biennali di istruzione e formazione. Si tratta di percorsi che sostanzialmente sono dedicati a quei ragazzi che fuoriescono dal mondo dell'istruzione ordinaria, quindi dal mondo della scuola, ai quali noi offriamo un'opportunità di formazione specifica e ovviamente di rinserimento sia nel tessuto sociale che nel mercato del lavoro. L'OIAL realizza da anni questi percorsi, oggi presentiamo i risultati di due percorsi biennali tenuti a Falconara e a Macerata, i nostri centri di formazione, ma già siamo in campo con ulteriori percorsi su questo tema, tre che riguardano i percorsi triennali, due sempre nel nostro centro di formazione di Macerata e uno nel centro di formazione di Falconara e poi ovviamente con altre iniziative che li coinvolgono prevedendo per alcuni di questi ragazzi anche l'opportunità di percorsi di presenza in azienda all'estero. Non a caso abbiamo anche presentato un progetto che affianca un po' questi percorsi di istruzione, che ha avuto un finanziamento della comunità europea e che prevede la partecipazione di questi ragazzi a percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero con altre aziende. Su questo in particolare abbiamo anche la collaborazione di grosse aziende nel nostro territorio come la Guzzini oppure la partecipazione dell'Istituto Corridoni di Macerata. Quindi la rete che mettiamo in campo cerca di utilizzare al meglio le risorse che la Regione Marche ovviamente stanzia per il raggiungimento di risultati come quelli che oggi presentiamo.